Benvenuti da parte di Giuseppe Cinà che sta conducendo questa seconda puntata settimanale di Rotomarket Scommesse, benvenuti appunto a questo nostro appuntamento settimanale, ormai abbastanza conosciuto. La settimana scorsa sono cesse diverse sorprese ad opera di alcune squadre, in particolare adesso le vedremo nel dettaglio, ne abbiamo parlato durante il corso della trasmissione di inizio settimana e abbiamo dato uno sguardo anche alle varie classifiche, alle varie situazioni che si sono create dopo l'ultimo turno di campionato in vari campionati. Dicevamo della scorsa settimana le sorprese che hanno caratterizzato, le squadre che hanno portato scompiglio nelle nostre, nelle vostre scommesse, sono state in particolare il Porto che non ha vinto in casa contro la Lenza, un segno X pagato addirittura 10 volte la posta, il Borussia Dortmund, l'attuale campione in Germania che ha perso in casa l'opera dell'Hamburgo per 4 a 1, un segno 2 pagato 9 volte e mezza la posta, vedete anche voi sul vostro teleschermo anche le altre sorprese, citiamo a voce, anche a beneficio di coloro che si stanno seguendo sulle frequenze radio di radio antenna, l'Ajax che è in casa pur pareggiando con il Roda ha generato un segno X pagato 7 volte la posta, anche lo standard Liegi perdendo in casa d'opera del Mons, stiamo parlando del Belgio evidentemente, la Serie A belga, il segno 2 di standard Liegi Mons pagato 7 volte la posta, è stata anche una sorpresa, la sconfitta in casa del Verona contro il Vicenza e a proposito di questo discorso del Verona volevo aprire una piccola parentesi per ricordarvi ciò che avevo già in qualche maniera anticipato qualche settimana fa a proposito del Verona. In Serie B, per chi non lo sapesse o per chi avesse bisogno di averlo ricordato, se una squadra alla fine campionato arriva a terza e ha 10 o più punti di vantaggio sulla quarta non si disputeranno i playoff, cioè oltre alle due promosse che sono le due che arrivano al primo e al secondo posto, anziché disputare i playoff tra terza, quarta, quinta e sesta, se la squadra che arriva a terza alla fine del campionato regolare ha, ripeto, oltre 10 o più punti di vantaggio non si farebbe arrivare i playoff. E questa è un'ipotesi davvero piuttosto difficile o quantomeno sono tanti interessi affinché insomma tutto questo non accada. Qualche settimana fa il Verona gli aveva effettivamente 10 punti sul Varese, il Verona era terzo, il Varese era quarto con 10 punti di distacco. Io vi avevo detto lì dove potete, insomma cercate di orientare i vostri pronostici verso una soluzione che appunto prevedesse che si riducesse questo distacco. E in effetti poi così è stato, anche se a distanza di qualche settimana, ma comunque il Verona che perde in casa contro il Vicenza, il Varese che recupera punti e così via, adesso il distacco tra terza e quarta in classifica è stato ridotto di molto e comunque da qui alla fine del campionato ricordatevelo questo particolare perché a volte magari così si possono spiegare certe sorprese come questa qua del Verona in casa contro il Vicenza. Magari uno se se lo dimentica, tecnicamente il Verona è molto molto più forte del Vicenza, però ogni tanto capitano anche di queste cose, cioè che il Verona perde in casa contro il Vicenza, mentre nel frattempo il Varese recupera punti. Detto questo, vabbè, delle ultime sorprese più importanti della scorsa settimana, a meno per quanto riguarda i campionati che noi osserviamo e che studiamo per certi versi, ha perso il Manchester City in casa con il suo Tempton, un segno 1 pagato 5 volte, 4 alla posta, quasi 5 volte e mezzo. Il Braga in Portogallo ha perso in casa ad opera del Pagos Ferreira un segno 2 pagato 5 volte la posta e l'Ate di Copilbao che ha perso in casa con l'Espagnol per 4 a 0 un segno 2 che era una sorpresa pagata 4,75 volte la posta. Sempre per la scorsa settimana ricordiamo e lo faremo anche questa settimana che vi i nostri suggerimenti per quanto riguarda gli over 1,5, ricordiamo che l'over 1,5 è una partita nella quale ci sono almeno due gol. Mediamente la quota di un over 1,5 è 1,30, 1,32, dico mediamente perché ci sono partite, dopo giocare Barcellona per dire che l'over 1,5 è quotato 1,1, giusto? Per fare un esempio. Partite invece dove ci sono squadre che hanno buone difese, addirittura all'over 1,5 può arrivare anche a 1,38 o 1,40. Mediamente quelli che proponiamo noi sono quelli che hanno una quota di 1,30 o 1,32. Nella scorsa settimana di quei 7 che vi abbiamo segnalato ne sono stati centrati 5, abbiamo sbagliato lo 0 a 0 di Elce Cordoba e l'1 a 0 di Cesena Ternana, gli altri invece sono 5 su 7, sono stati presi e volevo ricordarvi a questo proposito che già prendere 3 partite di queste, mediamente si triplica la posta investita, quindi se uno gioca per esempio 5 Euro su 3 partite dove l'over 1,5 è quotato mediamente 1,30 o 1,32 ha già triplicato la posta, 5 Euro ne vincerebbe 15. Se ne prende invece addirittura 5, in questo caso 5 su 7, valevano circa 5,3 volte la posta. Questo ripeto giusto per ricordarvi che se ci si sa accontentare si riesce a essere a volte diciamo sì, no, sempre più vincenti di quando invece si rischia molto. Il problema è che si vince poco, ma meglio poco e spesso che non invece tentare soltanto la grossa vincita. Vi suggerisco di cominciare già a dotarvi sin da adesso di carta e penna per i vostri appunti perché comincio già sin da ora e poi comunque la facciamo rivedere anche a fine trasmissione. La scommessa principale che vi suggerisco questa settimana la vediamo subito ma poi vi ripeto vedremo anche le altre a fine puntata. Quella che mi piace oggi di più è questa di qua composta da i due segni 1 del Bari contro il Cotone in Serie B, del Brescia contro il Vicenza sempre in Serie B, anche dell'1 del Napoli contro la Sampdoria e poi l'over di Novara Verona partita di Serie B ma che si giocherà domenica ora di pranzo quindi alle 12.30. Allora l'1 del Bari, inutile spiegarvi perché, mi piace o per quale motivo insomma lo suggeriamo, comunque ha una quota molto buona perché questo 1 del Bari-Cotone è quotato a 2 e è da prendere in considerazione, anche l'1 del Brescia contro il Vicenza c'è un abisso secondo me da queste due squadre così come c'era anche in Verona-Vicenza però insomma in Verona-Vicenza ci dà la sorpresa, beh qui questo segno 1 invece mi piace molto, è quotato a 1.75, anche questa è una partita che si giocherà di sabato alle ore 15 così come Bari-Crotone Novara Verona che vi ripeto pur essendo partita dei B si gioca domenica alle 12.30 mi piace l'over pagata 1.95 e poi l'1 del Napoli contro la Sampdoria è pagato pochino 1.38 ma secondo me ci sta tutto anche perché se no questa lotta per lo scudetto si potrebbe già considerare conclusa con molto anticipo. Questi quattro segni pagano già quasi 10 volte la posta per l'esattezza 9,4 volte la posta tenete presente che per quote io uso quelle del martedì mattina di Match Point, uso quelle per comodità, per caricarle sui computer e per evitare insomma di dover poi fare doppi caricamenti e così via. Comunque in genere è difficile che le quote varino dal martedì al giovedì. Certo poi magari verso il venerdì o il sabato quando ci sono concentrazioni di gioco soprattutto sui risultati più probabili è facile che la quota possa anche un po' scendere. Come alternative a questi quattro segni se c'è qualcosa che non vi piace di questo, non vi piace giocare sulla serie B o non vi piace magari l'opera di Novara Verona, insomma per qualche motivo qualcuno di questi segni che vi ho elencati non vi piace. Come alternativa vi suggerisco o l'1x come doppia chance di Ternana Empoli che pagata 1,40 secondo me è abbastanza buona perché la Ternana insomma volende una buona squadra e quindi questo 1x a 1,40 ci sta oppure ci piace molto l'x2 di Pescara Cagliari, anche questa è una doppia chance, anche questa quotata bene a 1,40. Ripeto torneremo poi a vedere anche le altre scommesse verso fine settimana, per adesso ricordate, insomma è bene che sappiate che in Serie A il Cagliari avrà tre squalificati Astori, De Sena e Conti, l'Atalanta ne ha due, Biondini e Buonaventura, la Juventus due, Marchisio e Peluso, due ottimi giocatori, d'altronde insomma è difficile trovare giocatori che non sono buoni della Juventus, comunque Marchisio e Peluso sono tra i più importanti di questa Juventus che sta andando benissimo per adesso e tra l'altro sarà rinfrancata dal netto 3-0 che ha colto in Champions League sul campo del Celtic. Il Torino ha squalificato D'Ambrosio, Napoli ha squalificato Colombo per due giornate, la Lazio non avrà l'Edezma, il Milan dovrà fare a meno di Ambrosini, il Chievo invece non avrà Luca Rigoni, mentre è l'Udinese, c'è Danilo che deve scontare ancora un turno precedente. Andiamo in Serie B per ricordarvi che ci sono due squalificati nella Provercelli, due nel Nascoli, due nel Lanciano, due nello Spezia e giusto giusto sono due attaccanti, Okaka e Antenucci, due nella Juve Stabbia e poi squalificato ancora per qualche turno Pavoletti che rientrerà a fine febbraio, Pavoletti del Sassuolo e poi un giocatore per squadra troviamo squalificato Castiglia nel Vicenza, Croce nel Lempoli, Damonte nel Varese, Fazio della Ternana, Laner nel Verona, Pettinari nel Crotone e Sciaudone del Bari. Ma in genere in Serie B, ripeto così come in Serie C, se non ci sono almeno due squalificati, diciamo sì, l'informazione è poco importante, a meno che non si tratti insomma di un grossissimo giocatore, ma ormai sia in Serie A, sia in Serie B in particolare, in Serie B e in Serie C, non c'è un giocatore che da solo può fare la grossa differenza. Qualche buon giocatore c'è sicuramente, vedi per esempio Zazza nel Nascoli, ma non è che Nascoli, anche se dovesse mancare Zazza, sì sicuramente ha qualche chance in meno, diciamo sì di segnare, però ecco, io ho preso proprio un caso specifico, Zazza nel Nascoli per dire proprio uno di quei casi particolari dove l'attaccante ha un certo peso perché è uno dei pochi magari che segna molto in quella squadra. Nella prima divisione, tre squalificati nella Paganese, due nella Binoleffe, due nella Virtus Sentella, due nel Barletta, due nel Treviso, due squalificati nel Carpi e due nel Pavia, di questi due del Pavia, uno è abbastanza importante perché si tratta di Mezzagolli, insomma il perno del centrocampo pavese, seguono altri squalificati ma soltanto uno per ogni squadra. Andiamo a dare uno sguardo alle quote e anche a qualche evidenza che ho preparato per questo turno di Serie A in modo particolare. Allora Catania e Bologna, vi avevo già anticipato all'inizio settimana, è favorito a Catania, il segno 1 è pagato a 2, cioè raddoppierebbe la posta, tra l'altro Catania ha da, in qualche maniera, vendicare il 4-0 subito all'andata d'opera del Bologna, è una squadra che in questo momento sta giocando abbastanza bene, insomma se rispetto ai pronosti col Catania ce la dovrebbe fare a battere questo Bologna, la quota dell'1 è pure abbastanza buona. Andiamo a vedere per Catania-Bologna alcune evidenze, per ricordarvi alcune cose particolari, sono informazioni che, vi ricordo, noi per evidenza intendiamo il fatto che un ritardo statistico, un ritardo o una particolare sequenza di alternanza tra under-over, corner-goal, pare-disperi eccetera, vengono confrontati con i dati statistici degli altri campionati e se per esempio quella sequenza ha una lunghezza che è diversa dalla media, allora il nostro computer ce la mette in evidenza, quindi nasce l'evidenza quando una sequenza, un'informazione o un ritardo statistico supera la media invece dei dati degli altri anni precedenti, quindi a quel punto lì diventa un'evidenza. Nel nostro caso per Catania-Bologna, leggiamo le principali perché ce ne sono sempre tantissime, io addirittura ho escluso dal video l'evidenza del primo e del secondo tempo per non affollare ulteriormente la gran molle di informazioni. Catania, ricordiamo che ha fatto un solo pareggio in casa nelle ultime dieci partite e che alterna esito da tre, cioè nelle ultime tre partite ha fatto tutte e tre gli esiti possibili, vittoria, pareggio e sconfitta. A che serve questa informazione? Serve per il fatto che difficilmente una squadra ha un'alternanza esito che supera, mediamente insomma non arriva a cinque, mediamente a cinque, ma dico già a livello di tre può essere eseguita perché difficilmente un'alternanza esito arriva alla sesta o alla settima giornata, raramente, quindi quando già ce ne sono tre consecutive è da prendere in considerazione, che cosa è da prendere in considerazione? Quel risultato che spezzi l'alternanza. Bologna, Bologna fuori casa non pareggia da 14, da 14 trasferte evidentemente, quindi le ultime 14 trasferte Bologna mai ha fatto pareggio, sempre vittoria e sconfitta, e fuori casa ha fatto una sola somma gol pari nelle ultime undici, fuori casa subisce gol da 13 turni e alterna pari dispari da cinque partite. Adesso il Bologna la scorsa settimana bisogna vedere cosa ha fatto il Bologna nella scorsa settimana per quanto riguarda somma gol pari e dispari, giusto per non lasciare incompleta l'informazione, cerco di ricordarmene io perché non posso ricordarmi tutti i risultati, il Bologna la scorsa settimana, insomma si ha fatto pari, è bene giocare il pari per evitare ancora l'alternanza, se ha fatto dispari invece bisogna rigiocare il disco, insomma l'importante è rifare quello che ha fatto nella scorsa puntata. Stavo guardando in questo momento i cammini delle squadre, voi per ricordarmi in modo particolare questa cosa del Bologna, Bologna che nell'ultimo turno ha giocato, permettendone un attimo la lettura da parte degli occhiali, Siena, ecco ricordiamo esattamente, potevo essere certo di questa cosa, Bologna-Siena finita 1 a 1, quindi somma gol pari, per evitare che continui questa alternanza, per spezzarsi questa alternanza è necessario che venga di nuovo somma gol pari, quindi il suggerimento da questa evidenza è somma gol pari per Catania-Bologna, questo però da parte di Bologna perché se per caso nel Catania ci fosse un'evidenza che contrasta questa, perché per esempio in Bologna vorrebbe la somma gol pari, ma supponiamo che il Catania pareggi da 5 turni, evidentemente già sono due evidenze in contrasto fra di loro. Andiamo avanti, vediamo Chievo Palermo, le quote, ripeto abbiamo già detto, ho avuto modo di evidenziare nella puntata di inizio settimana che questa quota è davvero strana, questo segno 1 di Chievo Palermo pagato a 2,10, perché per le posizioni di classifica che hanno le due squadre, insomma per tanti motivi questo 1 dovrebbe essere pagato molto meno, e invece è pagato 2,10 l'1 di Chievo Palermo, evidentemente i bookmakers non credono molto nella vittoria del Chievo, è vero che il risultato di pareggio di vittoria per il Palermo è quello più sperato dai palermitani, ma è pure vero che questa quota dell'1 è abbastanza alta. Per Chievo Palermo vi ricordiamo che in casa il Chievo non fa due over consecutivi da 20 partite, l'ultima volta ha fatto over, ma non ne fa due consecutivi da 20 partite. In casa ha fatto anche più under, una delle squadre che ha fatto più under, 8 under finora in casa per il Chievo. Il Palermo fuori casa, una sola vittoria nelle ultime 31 trasferte, chiaramente stiamo parlando di trasferte non solo di questa stagione, ma anche quelle delle stagioni precedenti, è un Palermo che non vince da 10, subisce gol da 12, fuori casa ha fatto un over 3.5, cioè partite con 4 più gol, ne ha fatto uno solo nelle ultime 14 e ha il peggior attacco della Serie A fuori casa perché ha segnato soltanto 5 reti. Andiamo al Genoa Udinese, le quote, l'1 al Genoa è a 2,40, l'X a 3,20, il segno 2 è a 2,90, queste le quote per Genoa Udinese, partita nella quale il Genoa ha necessità di punti, l'Udinese è abbastanza tranquilla, ma statisticamente noi saremmo un po' più orientati verso l'X2, anche se è un risultato che farebbe comodo anche al Palermo, nella speranza che il Palermo possa recuperare punti nelle prossime giornate, e non è pagata male questa doppia chance X2, anche perché l'Udinese è sicuramente più forte della Genoa, ci sono 14 punti di differenza tra l'Udinese e Genoa, ancora il campionato è abbastanza lungo, non siamo nelle ultime 6-7 giornate di campionato, se fossimo nelle ultime 6-7 giornate di campionato forse potrebbe prevalere di più la necessità di punti del Genoa, in questo caso l'X2 pagata 1,52 ancora ci può ben stare, e poi soprattutto lo speriamo per il Palermo. Il Palermo che comunque deve darsi una mossa a lui, è inutile che le altre vadano male, se poi il Palermo va peggio delle altre. Fiorentina-Inter, il 2 che sarebbe il risultato che tutti gli interisti si augurano, è pagato appena 3,30, il segno 1 invece è il segno più pronosticato per Fiorentina-Inter perché è pagato a 2,10, l'X è a 3,40. In una partita nella quale ci sono molte incognite, io quello che posso dirvi è che la Fiorentina secondo me tornerà a giocare bene, ha avuto secondo me momento di appannamento, ma secondo me tornerà a giocare bene e se così dovesse essere per l'Inter potrebbero essere dolori. Quindi attenzione a questo segno 1, andiamo a Milano per seguire Milan-Parma, segno 1 molto favorito, pagato 1,45, l'X già è pagato 4,2 volte la posta, addirittura il 2 del Parma-Milano, 7 volte la posta. Parma è una squadra di metà classifica, gioca tranquilla, gioca abbastanza serena, gioca anche abbastanza benino, però lì davanti quei tre nel Milan sono pericolosissimi e sicuramente tra Ballotelli, Bojan, El-Sharavi, Nyang, insomma il Milan è di attaccanti là davanti per vincere la partita neanche quanti ne vuole. Diciamo che se per caso il Parma dovesse segnare un gol, allora da quel punto lì potrebbe esserci bene anche l'occasione di un over che sarebbe pagato in questo momento a 1,80 l'over di Milan-Parma. Sempre per Milan-Parma alcune delle evidenze che il nostro computer ci propone, in casa il Milan non pareggia 14 partite, alterna under e over da 6 turni, quindi l'ultima volta che ha fatto il Milan, adesso vediamo un attimo cosa ha fatto il Milan l'ultima volta, giusto per sfruttare questa alternanza, l'ultima volta che il Milan ha fatto under perché ha pareggiato a Cagliari per 1-1, per spezzarsi questa alternanza dovrebbe fare nuovamente under, quindi questa ripete l'informazione che viene da questa evidenza, alterna e over da 6, l'ultima volta ha fatto under, per spezzare l'alternanza dovrebbe venire ripeto l'under, mentre invece ripeto secondo me se il Milan ha la possibilità di segnare molti gol, quindi l'over ci sarebbe, quindi questo, vedete in questo caso bisognerebbe insomma riuscire ad aggiustare bene tra l'informazione statistica e l'informazione tecnica, in questo caso ecco io per esempio non terrei conto dell'informazione statistica, darei più spazio all'informazione tecnica, perché ripeto tra l'altro il Milan gioca con una squadra, il Parma che può anche essere in grado di mettere in difficoltà il Milan, specialmente con l'attacco che si ritrova in questo momento abbastanza prolifico. Dicevamo ancora che il Milan vince da 5 partite, in casa ha fatto un solo under nelle ultime 7 partite che ha giocato in casa e ha fatto una sola sconfitta nelle ultime 12 partite, per il Parma ricordiamo che subisce gol fuori casa da 12 turni e fuori casa nelle ultime 22 trasferte soltanto una volta ha fatto under 1.5, cioè una partita nella quale vengono segnati 0 o un gol. Al Parma è successo una sola volta nelle ultime 22 trasferte. Devo andare velocemente che siamo soltanto, siamo agli ultimi 6 minuti di trasmissione, Napoli-Sampdoria, favorito è Napoli, l'1 è quotato a 1.38, l'X a 4.5, il 2 invece è pagato 8 volte la posta. Partita nella quale Napoli ha i favori del pronostico, è un segno 1 da 1.38 che tra l'altro abbiamo anche scelto nelle nostre scommesse. Alcune evidenze per quanto riguarda Napoli-Sampdoria, il Napoli in casa segna da 20 turni, in generale segna da 14 partite, in casa segna da 20 partite, cioè le ultime 20 in casa il Napoli ha sempre trovato la via del gol. In generale in campionato da casa e fuori segna da 14 partite, non perde da 7 e in casa ha vinto le ultime 3 trasferte. Tra l'altro in casa il Napoli ha il migliore attacco con 30 gol all'attivo. la Sampdoria non ripete lo stesso esito da 7 partite, ripetizione stesso esito, ricordiamo che la Sampdoria è l'ultima partita che ha fatto a vinto, in teoria per alzerarsi questo ritardo la Sampdoria dovrebbe tornare alla vittoria proprio per spezzare questa non ripetizione di esito. E ancora per continuare dalla Sampdoria, beh, una sola vittoria fuori casa, una sola vittoria nelle ultime 10 trasferte. Andiamo adesso a parlare di Roma-Juventus, una delle partite più interessanti di questa giornata, se non fosse proprio la più interessante. È favorita la Juventus, il segno 2 è a 2,15, l'X è a 3,40, il segno 1 della Roma è a 3,20. Partita che potrebbe sfuggire al pronostico di base, che evidentemente sarebbe il segno 2 per la Juventus, solo per il fatto che la Juventus magari potrebbe essere un po' diciamo psicologicamente stanca, non fisicamente secondo me, della trasferta contro il Celtic, cioè un po' appagata mentalmente, 5 punti di vantaggio sul Napoli, soltanto questo potrebbe consentire alla Roma attuale di poter evitare la sconfitta contro la Juventus. Ma se la Juventus non si distrae e se non si fa influenzare un po' dal successo che c'è stato in Champions, la partita dovrebbe vincere la Juventus, perché nella Roma tra l'altro secondo me c'è anche un po' di confusione, un po' di Maretta, è stato chiamato per giunta l'allenatore, ci sono giocatori che in campo non è, anzi questa cosa di Osvaldo che ha voluto tirare il rigore quando invece il rigorista era Totti nell'ultima partita di campionato contro la Sampdoria, insomma segnali che non c'è una certa coesione all'interno di una squadra e quando è così sicuramente il rendimento si abbassa. Quindi ripeto, partita che dovrebbe essere sicuramente verso la Juventus, ma soltanto ripeto, per cose particolari potrebbe succedere qualcosa di diverso. Questa doppia chance 1x, 1.64 è allettante, ma insomma se la Juventus si gioca per come sa, e la Roma rispetta i problemi che c'è in questo momento, anche la doppia 1x non avrebbe senso. Di Roma-Juventus vi ricordiamo quando mancano appena tre minuti alla fine della termissione che la Roma in casa segna 31 partite, mi fermerei qui, per la Juventus cosa dirvi, in particolare fuori casa una sconfitta nelle ultime 30 trasferte, ha fatto fuori casa un solo pareggio nelle ultime 8 trasferte, ha la migliore difesa del campionato, 16 gol subiti, fuori casa il migliore attacco, 23 gol, fuori casa la migliore difesa con 8 gol subiti. Velocemente, alcune delle evidenze per il prossimo turno, ogni settimana ne generiamo centinaia, quindi è difficile fare una scelta, vi dico soltanto questo, in Serie B la Regina nel primo tempo non vince da 14 partite, la prossima partita è Regina Padova, l'1 al primo tempo ci potrebbe anche stare. Attenzione per esempio Inghilterra B, quindi la Championship, cioè la Serie B inglese, il Leeds nel primo tempo ha fatto 0-0 in tutte le ultime 7 partite, la prossima partita è Leeds-Pietersbru, qui c'è da segnalare da giocare in qualche maniera, l'over 0-5 nel primo tempo, votare che sia almeno un gol nel primo tempo, perché insomma 7-0-0 consecutivi nel primo tempo sono davvero molto, molto, molti. Bundesliga, Bayern, Monaco, sta conducendo il campionato alla grande, primo tempo fuori casa, non subisce gol da 17 partite, 17 trasferte fuori casa, il Bayern non subisce un gol. E ci potrebbe anche stare, insomma, un gioco fuori casa contro il Wolfsburg, qui ci sta sia l'1 nel primo tempo, l'over 0-5 nel primo tempo per Bundesliga-Bayern. Anche nella nostra serie, prima divisione B, il Barletta nel primo tempo fa 0-0 da 6 partite, giocherà su un campo difficilissimo, quello della capolista Latina, Latina-Barletta, primo tempo over 0-5, ci sta tutto. Serie A, vi segnaliamo soltanto tre pronostici, queste sono tutte le quote della Serie A, l'1 del Catania, l'X2 di Geno Odinese pagata 1,52, l'1 del Napoli 1,38. Vi ricordiamo che Milan-Parma si gioca di venerdì sera, sabato invece i due anticipi sono Chievo-Palermo e Roma-Juventus, mentre Siena-Lazio si giocherà lunedì. In Serie B, vi segnaliamo l'1 di Bari-Crotone, l'1 del Brescia, l'over del Novara e l'1x di Ternana-Empoli, questi quattro segni, Bari-1, Brescia-1, Novara-Oper, Ternana-1x pagano 10 volte la posta e vi ricordo che Novara-Verona si giocherà domenica alle ore 12.30. Gli orari della trammissione ve li ricordo la prossima volta, però adesso mi interessa farvi vedere le altre scommesse. Innanzitutto vi ricordiamo la prima, Bari-1, Brescia-1, Novara-Oper e Napoli-1, paga 9,4 volte la posta, ma questa l'abbiamo già vista in inizio di trasmissione. Vediamo le altre due. Ci piace questa terzina, pagata 5,2 volte la posta. in Alen-Erta-Bellino, siamo in Germania, serie B tedesca, l'over pagata 1,85, partita che si gioca di sabato, Pescara-Cagliari, doppia chance X2, pagata 1,40, Sporting-Gion-Elche nella serie B spagnola, l'over pagata 2,06. Questi tre eventi pagano 5,2 volte la posta. In alternativa vi segnaliamo l'over 1,5 di Lama-Scaenno oppure l'over 1,5 di Brescia-Vicenza e le nostre sette partite, anzi, da over 1,5, velocemente, Brescia-Vicenza, Verdebrema-Friburgo, Getafe-Certavigo, Reims-Santetienne, Salernitana-Vigo-Lamezia, Cardiff-Bristol e Alen-Erta-Bellino. Questi sono i nostri sette risultati principali nei quali consigliamo l'over 1,5. Siamo in ritardo, grazie di tutto, ci vediamo settimana prossima, ciao!